Con la legge edilizia che abbiamo approvato renderemo le pratiche edilizie più semplici e più veloci. Questo beneficio non solo delle pubbliche amministrazioni che lavoreranno meglio, ma anche dei cittadini e delle imprese che dovranno eseguire i lavori. Ci sarà una nuova modulistica più semplice e più immediata, ci sarà un ruolo forte dello sportello per le attività economiche e per l'edilizia che potrà convocare in tempi certi la conferenza dei servizi, ci saranno meno costi in termini di oner di urbanizzazione per tutti gli interventi che saranno improntati alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana. E poi ci sarà un regolamento edilizio unico perché vogliamo superare, stiamo superando la babele delle definizioni che molto spesso non coincidono, non sono assolutamente omogenee tra comune e comune. Quindi un passo avanti per la semplificazione e per la velocità di azione dei comuni per rilanciare il comparto edilizio.